Oggi è 25 aprile, festa della liberazione e della libertà, in nome dei partigiani e della resistenza. Ma con resistenza non intendiamo soltanto quell'armata fondamentale, di cui solo in Abruzzo abbiamo degli esempi straordinari come la Brigata Maiella, la Banda Palombaro e molti altri. Bisogna avere memoria anche di quei tanti, tantissimi uomini, donne, ragazzi, adulti, anziani, gente spesso proveniente dai ceti più popolari, artigiani, contadini, pastori, che magari non imbracciarono le armi, ma decisero, spesso a costo della vita, di compiere piccoli, grandi gesti di una resistenza più silenziosa, una resistenza umanitaria. Come nel caso di Michele del Greco, pastore di Anversa degli Abruzzi, condannato a morte per aver dato ospitalità e sfamato soldati inglesi ed ex prigionieri in fuga dall'oppressione nazifascista. Di Michele del Greco abbiamo il frammento di una lettera, che prima di essere fucilato scrisse alla famiglia, così come sapeva scriverla. Mi accompagna cara col mio rassegno di Dio. Carminuccia aveva una bella famiglia di portarla col nome di Dio. Il mio destino, sono stato condannato a morte. Io vi benedico e mi dovete perdonare per qualche rimbrovere. Portatela a palma e fate quello che vi dice vostra madre. avete perso il padre. Io moro perché ho commesso per aiuta la povera gente. La vita mia vi la devono pagare, che quando è piantato il governo fate ricorso, che moro per aiutare la gente. E la gente aiutava non soltanto i militari, ma anche i civili che scappavano dalle città presidiate dai tedeschi. Ce lo dice pure Alba de Sespedes, dissidente italo-cubana, nome di battaglia partigiano Clorinda, che in quegli anni era rifugiata in Abruzzo. Che cosa non vi dobbiamo, cara gente d'Abruzzo? Entravamo nelle vostre case, ma voi neppure accennavate a timore o prudenza. Subito le vostre donne asciugavano i nostri panni al fuoco, ci avvolgevano nelle loro coperte, rammendavano le nostre calze e logore, gettavano un'altra manata di polenta nel paiolo. Non serviva passaporto per entrare in casa vostra, né valevano le leggi per la nazionalità e per la razza. Avete diviso con noi il pane che non c'era.